Finalmente le giugiole. Meglio precisare che giugiole si scrive con la G. Sì, con il gelato. Ci dica un poco. Le proprietà sono tantissime, sono ricche di vitamine C, di sali minerali, di fibre, quindi è un frutto molto piccolo, come sapore ricorda un po' la mela dolce, oltre a una mela e il dattero. Più si fanno mature, più si avvicina al sapore del dattero e hanno veramente, anche se è un frutto così piccolino, è super concentrato di vitamine C, di sali minerali, di fibre, quindi è un ottimo spuntino, è ottimo anche diciamo per... Ma hanno avuto successo? Sì, sì, sono piaciute tantissimo, anche la maggior parte delle persone non le conosceva, infatti le abbiamo quasi finite ormai, quelle che abbiamo portato questa mattina e sono venuti ad acquistare, sono ritornati a prenderle, le hanno provate la volta scorsa e adesso sono venuti appositamente proprio per le giugiole. Ah quindi, viva le giugiole! Siamo riusciti a farle conoscere. Da dove venite? Noi veniamo da Boscoriale e produciamo anche miele, anche altri diciamo frutte e verdure dell'orto e proponiamo sempre anche frutte antiche e cose particolari, diciamo.